Mi stiamo accompagnando nel nostro posto segreto che si trova nel centro di Milano vicino a dove lavoriamo. Qui siamo in piazza San Babila come potete vedere è un luogo grigio e molto caotico ma ora ci dirigeremo verso un posto più piacevole. Ora siamo in via Borgogna e proseguiamo lungo questa strada fino ad arrivare in via Mascagni e qui si trova il nostro posto segreto. Qui inizia l'area del nostro posto segreto e come vediamo ci sono tantissime panchine vicinissime al conservatorio infatti nella bella stagione sono popolate dagli studenti e anche da noi nelle nostre pause pranzo. Ed ora ecco il nostro posto segreto l'albero casa. Questo foro che vediamo alla base dell'albero è quello che noi chiamiamo una tana del bianconiglio. Questo è un platano piantato nei primi dell'ottocento dei francesi durante la conquista napoleonica. I francesi amavano molto piantare plata nei lungo i viali. Purtroppo ne sono rimasti molto pochi a Milano. In particolar modo il nostro albero casa è l'unico rimasto in via Mascagni. Infatti quest'area è stata interessata da numerosi interventi urbani tra cui la costruzione di un parcheggio sotterraneo e l'ampliamento della strada che hanno ridotto notevolmente lo spazio dedicato a questa pianta e le sue radici. Nel 2006 lega ambiente l'ha dichiarato monumento della natura e per salvaguardarlo viene monitorato costantemente e vengono fatti interventi per mantenerlo in salute come per esempio i tiranti che potete vedere tra i suoi rami. Per chi non è di Milano e magari un giorno volesse venire a visitare questa città si ricorda di questa zona. È vicinissima al centro, ha moltissime panchine e poi soprattutto nel periodo estivo offre riparo alla calore estiva. Tutto questo grazie al nostro albero casa che ci fa compagnia e ci dà coraggio durante le nostre pause pranzo. Ciao a tutti da Angela e Laura! Grazie a tutti!